Stiamo in spiaggia fino a sera. Vado a letto a mezzanotte. L'auto di Claudia è piccola. Abbiamo viaggiato con il treno. Domenica vado in campagna. Vado a prendere mia figlia. Ho lasciato l'auto per strada. Abito qui ma vengo dall'Italia. Tra poco vado in vacanza. La lezione è tra dieci minuti. Andiamo a sciare in inverno. Hai molti animali in casa tua. Lui viene dalla Nuova Zelanda. Lisa non viene con noi al mare. Vado a fare una passeggiata. Veniamo in auto a casa tua. Mio cugino viene da Lisbona. Andiamo dal gelataio oggi. Gli studenti escono alle due. Sono a pranzo con Giovanni. Esco da casa molto spesso. Devi uscire a spostare l'auto. Ho mangiato il pesce con il pane. La tua collega vive con suo padre. Ho sentito un suono da fuori. Sono stato al negozio stamattina. Oggi lo zio viene a trovarci. Siamo quasi a dicembre. Tuo cugino esce spesso di casa. Vado a lavorare ogni mattina. Ho bisogno di mangiare un po'. Oggi a Venezia fa molto caldo. Non usciamo da cinque mesi. Ho dipinto la parete di giallo. Quella sedia laggiù è di legno. Luca se ne va tra due giorni. Ho risposto a un messaggio. Manca molto tempo a Natale. Lo zaino è sul tavolo in cucina. Un anno fa ero in Colombia. Prova a chiedere a qualcuno. No. Questo è un bel giardino. La tua casa ha bei pavimenti. Desidero un buono chalet. Quei profumi non sono buoni. Ho letto questi giornali e quelli. Ho mangiato un buon dolce. Ho visto dei begli uomini. Quei fiori non mi piacciono. Lina è una buona amica. Questi sono bei paesaggi. Oggi parlo con quegli studenti. Ti porto un bel regalo. Sabrina è una bella donna. Questa macchina è bella. Questo è un buon lavoro. Nel film ci sono buoni attori. Non vado mai da quelle parti. Ci piacciono quei gatti. Vogliamo una bella cena. Il tuo è un buon gelato. Questi sono bei giorni. Io ho una bicicletta nuova. Io ho un guasto alla macchina. Noi siamo molto felici quest'anno. I miei genitori sono ancora giovani. Mio cugino ha due gatti bianchi. I miei vicini sono due olandesi. Voi siete in vacanza da due settimane. Claudia ha mangiato una mela. Voi avete il suo indirizzo di casa? Le tue amiche sono annoiate. Loro sono molto lontani da casa. Lei ha molte piante sul balcone. Noi siamo alla stazione da stamattina. Voi avete qualcosa da mangiare. Io ho un'auto nuova da due settimane. Noi abbiamo un appartamento. Il mio computer è vecchio. Lei ha i capelli lunghissimi. Se hai sete ho una bottiglia d'acqua. In biblioteca hanno molti libri. In biblioteca ci sono molti libri. Ti ho visto da qualche parte. L'auto di tua nonna è verde. C'è una lettera per te da Parigi. Claudia ha finito di studiare. Il vaso è caduto dal balcone. Luca è stato al cinema da solo. Oggi partite col volo del luna. Stiamo andando tutti da Paolo. Questo vestito è di due anni fa. Luca vuole qualcosa da bere. Hai una casa piena di quadri. Siamo usciti da quel negozio. Domani non ho nulla da fare. La porta è di nuovo chiusa. A me piace uscire di casa. Ci piacciono le macchine. Mi piacciono i concerti. Gli piace leggere i fumetti. A lei piace bere il caffè. A lei piacciono i vestiti. Gli piacciono quelle case. So che vi piace la scuola. A lui piace mangiare pesce. Gli piacciono i giardini. A volte ci piace andare via. A me piace tanto nuotare. Mi piacciono le auto tedesche. Ci piace andare in vacanza. Mi piace viaggiare in treno. Mi piacciono le biciclette. A loro piacciono i cappelli. A voi piacciono i canarini. Ti piace molto nuotare. A lei piace fare la spesa. Le piacciono i vestiti nuovi. Non si vede il mare da quassù. Nell'edicola si vendono i giornali. Domani ci si sveglia presto. Stasera si può andare al cinema. Loro si prendono la mia auto. Al ristorante si mangia bene. Si dice che quest'anno nevicherà. Spesso si viaggia di notte. Dalle piramidi si vede il deserto. Ieri sera si è parlato di tutti voi. Se si sta male è meglio dormire. Si prevede una gran pioggia. In estate si fanno le vacanze al mare. Non si finirà per vendere la casa. Non si finirà per vendere la casa. Esprimere. Espresso. Erigere. Eretto. Eretto. Fondere. Fusso. Fringere. Fritto. Fusso. Fringere. Fritto. Giunto. Imprimere. Impresso. Includere. Incluso. Intendere. Inteso. Invadere. Invaso. Leggere. Letto. Mettere. Messo. Muovere. Mosso. Nascere. Nato. Nascondere. Nascondere. Nascosto. Nascondere. Nascosto. finlandese abituato al freddo. Il parcheggio è per le persone residenti. Luigi pensava ad altero camminando. Questi sono palazzi risalenti al 600. Tornando dalle ferie ha portato i regali. Luca ha guidato per dieci ore cantando. Il professore nuovo è molto competente. Studio sempre ascoltando la musica. Voglio comprare una moto potente. Sta piovendo, non possiamo uscire. Bevendo il tè ho finito di lavorare. Claudio usa molte creme idratanti. Anna è uscita portando via il cibo. Guardando l'orologio ho letto l'ora. So che Mario dorme fino a tardi. Penso che Mario dorma fino a tardi. Lui dice che tu finisci alle 6? Lui crede che tu finisca alle 6? Desideriamo che voi scriviate un'email. Sappiamo che voi scrivete un'email. Sara dubita che tu capisca tutto. Sara sa che tu capisci tutto. Lei immagina che noi studiamo molto. Lei dice che noi studiamo molto. È vero che lui studia molto. Sembra che lui studi molto. Marco dice che io pago il conto. Marco spera che io paghi il conto. Loro dicono che lui comincia a studiare. Loro vogliono che lui cominci a studiare. Grazie. 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 Grazie.